si riporta come niente attaccalo ancora è troppo bello no si è rotto no no ma vai a provare no attaccalo ancora voglio cammelo provare aspetta un attimo no no ah ci sei sto già facendo io quanto dura ancora 35 minuti dovrai cadere 35 minuti guardate la mia nuova capigliatura di nante si ma dopo dipende dai che i kilobytes ma che posso guidarmi oh sbrigatevi che faranno un po' diventano 20 tra 5 minuti diventano 20 kilobytes 20 minuti cioè dipende dai kilobytes agliatino all'impresa si prepara è difficile da manovrare questa strada prima non era stretto bastardo era stretto come una madonna perché mi sei ribalzato eh mi sono ribalzato non è facile vieni tu dopo mi sono fatto anche due volte male però fa niente vai agliatino tutto è un trippato serve l'ha ripresa tutta ma dicono di merda oh ma che cazzo vuoi ma io guido eh tu guidi il manovrio va a puntare da solo vaffanculo vai guarda non mi... allora ti dirò la legna ma dov'è la sedia della porta forse? via 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 ah non è avrò la metta vai vai no Rai la scuola, non? Non è nala, non è nala, non è nala, solo io Alla, fai la curva l'alba, fai tutta la pata. Via, via. Ciao, grazie. il volo colpi ahi Nico, tira ah non metti i finituffi metti hai dato giù la porta non è più che attacassi oh ahi Nico, tira oh però stai in te guarda aspetta vai vai vediamo se è facile vediamo se è facile da guidare no in no 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 da cal dai i i i i